E' tira il seppato! Datemi la palla. Ma perché adesso nemmeno più di rinvolta si possono fare? Non si possono fare. Tu puoi sapere perché ci scassi sempre la minchannata? Questo pallone è requisito. Eh? Se non ti fermi subito, questo pallone è requisito per una settimana. Se continui questa pallone non la vedi più. Conto la tappa degli stronzi. E' questo cazzo di palla, la sua camicchia, ve la facciano vedere per capodanno. Avete capito? Continuato, continuato. Continua, bravo, bravo. Bravo, bravo. Dai Giovanni, basta, basta. Basta, basta. Basta, basta. Ecco, la tua classe è questa qua.